La resistenza partigiana lituana, la caduta della dominazione sovietica ed un popolo che ritrova lentamente la sua identità. Sono questi i passaggi salienti del secondo lavoro che porta la firma del giovane intellettuale cosentino Alessandro Sposato, che ormai da quattro anni vive il lavoro in Lituania. Una esperienza articolata e pervasiva da cui è scaturita l'esigenza di ripercorrere le tappe fondamentali della storia della Lituania. Questo è un libro molto importante dal punto di vista accademico e anche sociologico perché dà al lettore, a colui che fruggerà di questo libro, delle informazioni non solo storiche ma anche sociali di quella che è stata la Lituania e quella che è la Lituania, perché in molti ancora hanno un po' di confusione a localizzarle e ad avere informazioni concrete su questo paese che sta crescendo giorno dopo giorno e che da gennaio del prossimo anno entrerà nella zona euro. Per anni, dal 44 al 53, loro hanno avuto delle formazioni prima spontanee, poi articolate di resistenza vera e propria nelle foreste. Questa resistenza ha fallito perché l'armata rossa, come tutti ben sappiamo, era numericamente superiore, però attraverso la resistenza alla forza successivamente pacifica hanno ottenuto una libertà che ancora ad oggi, a distanza di una ventina d'anni, loro mantengono forte, loro hanno ancora paura di perderla. Un volume che nasce con l'obiettivo ben preciso di dare il braccio a tutti quegli italiani e non sono pochi ormai stabiliti a quelle latitudini. Questo libro è qualcosa che può essere utile, non solo dal punto di vista accademico, magari sì, se si pensa all'università, magari agli studi, ma anche alle persone comuni semplici, che magari hanno una fianzata, una moglie lituana, vanno spesso in Lituania, che purtroppo hanno delle carenze concrete dal punto di vista della vita. Così, per esempio, molte donne che vivono in Italia, lituane, hanno avuto la forza di imparare la lingua, di cambiare posto e così via, però essendo molto nazionaliste dal punto di vista non politico, ma caratteriale, avendo uno strumento del genere, può essere utile per dire al marito, guarda, questo è un regalo, puoi leggerlo, puoi capire quello che io ho passato quando ero giovane. Il volume edito da Periferia sarà distribuito in tutte le librerie nei prossimi giorni.